Il 90 per cento degli italiani lo aveva già abrogato, anzi il 90.3 per cento aveva abrogato vent'anni fa il finanziamento dei partiti. Poi solo il problema è che loro hanno cambiato nome a questo finanziamento pubblico ai partiti, hanno fatto leggi su leggi per farlo diventare rimborso elettorale, come se fosse dietro una presentazione di una nota a spese. In realtà si sono pappati tonnellate di soldi degli italiani e adesso dovranno restituirli secondo me e secondo noi con gli interessi. Per questo motivo sono molto felice e voglio ringraziarlo personalmente di avere nuovamente con noi il Vice Presidente della Camera Luigi Di Maio collegato da noi in diretta da Roma. Ciao Luigi, buongiorno, ben tornato sulla Cosa. Ciao, mi sentite? Perfettamente. Perfetto, benissimo. Come state? Come stai? Stiamo bene, in realtà abbiamo appena parlato purtroppo di nuovo regolamento a Gcom con l'avvocato Guido Scorza, siamo abbastanza preoccupati ma abbiamo anche intenzione, insomma io ho lanciato un'idea a Guido e credo che sia interessante per vedere di far scoppiare questa questione, ovvero, te la racconto anche se poi esce fuori, esula dalla chiacchierata che faremo io e te, visto che queste sono le nuove regole, facciamo, ok ci stiamo, a Gcom ha detto che aiuterà e andrà incontro alle grandi measure che pretendono che vengano salvaguardati i propri diritti delle opere pubblicate sul web, noi chiediamo la stessa cosa, perché se un utente carica 10 secondi delle iene sul proprio canale di YouTube gli viene chiuso, impedito di utilizzare quel contenuto, perché giustamente è di proprietà di un proprietario di opera di ingegno e perché invece Mediaset o la Rai possono fare programmi di un'ora intera prendendo i video il meglio dalla rete, di utenti sconosciuti, ignari, qualcuno che è caduto, la torta in faccia del bambino, piuttosto che la mamma che scivola sull'uscio di casa e poi li farciscono con la loro pubblicità, giù le mani dalla rete, facciamo il web left, ovvero il copyright al contrario, solo per la rete, chi produce per la rete deve avere la libertà di trasmettere in rete, quindi la televisione non si deve permettere di guadagnare, li rendiamo, li paghiamo con la stessa moneta, Guido mi ha detto che si può fare, dovremo inondare ogni volta che i ragazzi vedono un loro contenuto in televisione, inviare una mail e così forse l'agicom si renderà conto di che cosa sia la rete, questa è la nostra idea, allora vicepresidente, innanzitutto siamo anche un po' contenti, diciamo la verità che questa battaglia per cui vi hanno preso in giro, ci hanno preso in giro per mesi, mesi, grillini, sul tetto, l'iperenzi che dice che noi paghiamo i parlamentari per stare sugli scranni e non sul tetto, il momento 5 Stelle ha vinto questa battaglia contro i partiti, perché non lo cambiano più la Costituzione, non vogliono più toccare il 138? Ma è evidente che la deroga al 138, ovvero quella porcata che volevano fare contro cui noi ci siamo opposti, contro cui si è opposto tutto un mondo di costituzionalisti, giornalisti, cittadini che avevano a cuore la nostra Costituzione, ormai è stata seppellita da una serie di fatti che si sono verificati grazie proprio alla nostra battaglia fatta a luglio e a settembre. Giusto per fare un riepilogo delle puntate precedenti, mi auguro che Renzi stia ascoltando così impara qualcosa, perché su questo tema non ha la benché minima idea di cosa stiamo parlando, a quanto ho capito. Se lui paga anche noi per salire anche sul tetto, noi paghiamo lui come sindaco per fare battute e nient'altro, perché questo sto vedendo in questi giorni, quindi magari questo può essere un momento di approfondimento anche per lui. La porcata che si voleva fare con la deroga al 138 era una cosa molto subdola. Noi abbiamo l'articolo 138 della Costituzione che dice come si può modificare la Costituzione. Anche noi abbiamo un mucchio di proposte per modificare la Costituzione e per permettere ad esempio ai cittadini di avere più strumenti di partecipazione, per controllare i politici, per cacciare dal parlamenti politici quando fanno delle sciocchezze o quando vengono indagati e così via. Però noi lo vogliamo fare secondo il dettato dell'articolo 138. Loro invece lo volevano fare istituendo un comitato di 40 parlamentari blindato, in cui se moriva uno non lo potevamo neanche sostituire e tra l'altro abbiamo pagato, perché noi gli abbiamo pagato i rimborsi spese ai saggi, che erano quasi 40, che si dovevano occupare di mettere e predisporre questa riforma costituzionale e in realtà poi abbiamo pagato i saggi, abbiamo impegnato il Parlamento per due volte a discutere di questo comitato dei 41 parlamentari che dovevano occuparsi delle riforme costituzionali e poi alla fine si è insabbiato tutto perché? Perché noi non eravamo d'accordo già a luglio quando abbiamo letto questa proposta di legge, perché per noi la Costituzione va cambiata come ci hanno detto i padri costituenti, perché se la nostra Costituzione è rigida ed è definita rigida è perché, lo dice l'articolo 138, che ripeto a me stesso dice che per approvare una riforma costituzionale la Camera e il Senato la devono leggere due volte a distanza non meno di 90 giorni, quindi significa che tu approvi la prima volta sia alla Camera che al Senato, poi dai 90 giorni ai cittadini per capire bene di cosa stiamo parlando, in modo tale che la cittadinanza può anche metabolizzare e poi la porti di nuovo in aula e la fai votare. Eravamo arrivati al photo finish, mancava solo l'ultima approvazione della Camera e si è bloccata. Si è bloccata perché questa deroga all'articolo 138, cioè un comitato blindato che tira fuori il Parlamento dalle riforme costituzionali, le riforme si sarebbero fatte in questo comitato, in questo piccolo gruppo di studio, se così si può chiamare, questo gruppo d'ascolto, alla fine si è bloccato, arenato perché Forza Italia è uscita dalla maggioranza. Che significa questo? Siccome Berlusconi è vendicativo e non ha avuto la grazia da Napolitano, se n'è andato dal governo Letta, almeno figurativamente, perché poi alla fine votano le cose insieme sempre. Ha detto che per ripicca non vi voto la deroga al 138 per fare le riforme costituzionali con i comitati dei saggi e così via. Questo significa che alla Camera ci sono i numeri comunque per approvare questa deroga, però ce ne sono solo per la maggioranza assoluta e non per la maggioranza qualificata, che ricordo è i due terzi dell'Auto. Che significa? Che se venisse approvata così alla Camera dovremmo fare un referendum. E parole fino chiaro del PD e non nostre, nel caso in cui si fossi andati al referendum i cittadini l'avrebbero bocciato. Perché? Perché noi una forma di referendum senza quorum ce l'abbiamo proprio nel nostro ordinamento per i casi in cui si riforma la Costituzione. È un referendum confermativo in cui i cittadini dopo una riforma costituzionale che non è passata a due terzi dell'Aula, viene sottoposto ai cittadini un referendum nel quale si dice confermate o no questa riforma, chi vota conta. Non lo sapevo, quindi è il primo unico strumento referendario senza quorum. Esatto, questo lo hanno già, quando ci dicono ma non si può fare un referendum senza quorum, i padri costituenti ad un referendum senza quorum hanno la Costituzione. La Costituzione, mica sull'acqua per dire insomma, che è comunque un tema importante ma sicuramente la Costituzione sancisce proprio il concetto di bene comune. Allora a questo la Finocchiaro ha detto se andiamo al referendum questa deroga al 138 viene bocciata. Perché? Perché è chiaro che quelli che sono contro il 138 vanno a votare e comunque... Chi è però non riescono ad attivarli, no? Ma no, ma non li attivano perché non me lo immagino, che ti devo dire, Epifani letta in tv a spiegare l'importanza di questa deroga alla Costituzione. Di cosa stiamo parlando? Li sommergerebbero, certo. E quindi si è bloccata. Ma perché si è riusciti ad ottenere questo? Cioè si è riusciti ad insabbiare questa riforma costituzionale? Perché se ti ricordi, prima ancora di 178 a settembre, noi a luglio abbiamo fatto 53 ore interrotte di discussione in aula perché volevamo che questa porcata non si approvasse a ferragosto quando nessuno dava attenzione mediatica. Abbiamo fatto anche un'altra diretta con te in cui spiegavo questo concetto, no? Li ricorderai bene. Noi volevamo che si facesse a settembre perché a settembre c'era l'attenzione mediatica e poi gliel'abbiamo data quando siamo saliti sul tetto e tutti i cittadini l'hanno saputo di questo fatto. Allora, quando noi facemmo le 53 ore di seduta in interrotta, li tenemmo giorno e notte in aula… Me lo ricordo perché dormivo su questo divano rosso. Alla fine di queste 53 ore di seduta si fa una conferenza di capigruppo che è dove si decide il calendario d'aula con tutti i capigruppo dei gruppi parlamentari e lì ci dissero cosa volete, diteci cosa volete… Basta che la smettete. E lì noi dicemmo dovete spostare da agosto a settembre la votazione del 138. Recuperammo sì l'attenzione mediatica, ma di una cosa non se ne erano accorti, che noi l'avevamo spostata di un mese, avevamo guadagnato un mese, cioè avevamo fatto perdere un mese all'oro sulla tabella di marcia perché nei loro conti bisognava approvarla prima della legge di stabilità, molto prima. Perché si sapeva che la legge di stabilità sarebbe stata comunque un pomo della discordia per i gruppi di maggioranza, l'Imo, non l'Imo, tutte queste parti elettorali che si stanno spendendo… E quindi si sarebbe potuta scollare la maggioranza qualificata, cosa che è avvenuta. Cosa che è avvenuta. Io ricordo in quella sede, nella conferenza di capigruppo che durò tre ore, noi passavamo, eravamo io come vicepresidente della Camera e Riccardo Nuti, che era il capogruppo in carica allora, passammo due ore a contrattare per queste date e contrattavamo l'ultima di agosto, la seconda di settembre, gli ultimi giorni di agosto e i primi giorni di settembre. Arrivamo al 7-8 settembre che poi fatalmente coincide con il primo V-Day, l'8 settembre, e poi lì furono i giorni in cui salimmo sul tetto. Ma quello che è stato più importante e determinante in questa battaglia sono state quelle 53 ore di seduta in interrotta, che io ci tengo a precisare che sono stati giorni in cui il Movimento 5 Stelle ha espresso tecnica parlamentare pura, ci siamo studiati i regolamenti fino all'ultimo cavillo per utilizzarli e piegarli per la nostra battaglia e in quelle 53 ore non abbiamo infranto una sola volta il regolamento. Quindi quando ci dicono voi salite sul tetto, il tetto è stato fondamentale per farlo sapere alla cittadinanza, ma quelle 53 ore abbiamo utilizzato gli strumenti parlamentari, abbiamo dimostrato di essere un gruppo quasi veterano di questo Parlamento, come se ci stessimo da 20 anni e tuttora grazie a queste tecniche noi otteniamo l'approvazione di emendamenti e di risultati. Se qualcuno pensa, dei nostri ascoltatori, dei nostri attivisti, che i risultati che otteniamo in aula, come quello sulle auto blu, il 60% in meno di spese di auto blu nella pubblica amministrazione o il 70% in meno di spese di consulenze nella pubblica amministrazione, se qualcuno pensa che è stato frutto di una mediazione, sbaglia, perché noi per ottenere questi due emendamenti li dobbiamo tenere bloccati due giorni in aula, poi loro vengono sempre da noi e dicono che volete e in passato a che volete si rispondeva fammi avere questa cosa qui personale, invece oggi è che volete, facci avere dei risultati per i cittadini e questa è la tecnica che stiamo portando avanti, ci siamo studiati i regolamenti, ovviamente i primi mesi eravamo inesperti, lo sapevamo, era nel conto di portare i cittadini nuovi, ma oggi noi alterniamo manifestazioni pubbliche e anche di dissidenza, di disobbedienza come quella sul tetto a grandi azioni parlamentari che si fondano sullo studio delle norme del nostro regolamento parlamentare che è un mondo, quindi per dire l'importanza storica di quelle 53 ore del tetto dopo sono state determinanti per salvare la nostra Costituzione e non perché noi non vogliamo riformare la Costituzione, ma tu ti ricordi quali erano le intenzioni? Le intenzioni erano che si voleva fare un presidenzialismo o un semipresidenzialismo che era un presidenzialismo di fatto, questo che cosa avrebbe significato? Sempre più potere nelle mani di poche persone, persone che in questo globo, in questo mondo, quanto più hanno potere, più fanno scelte scellerate, per esempio di spendere miliardi di Euro per andare a combattere una guerra da qualche parte e dov'è che le guerre non si sono potute combattere? Dove c'era un Parlamento forte, pensa all'Inghilterra quando Cameron voleva andare in Libia e il Parlamento inglese gliel'ha vietato e Obama che aveva paura del suo congresso, il presidenzialismo e il semipresidenzialismo erano un modo per esautorare il Parlamento anche sulle tasse, i governi vogliono sempre aumentare le tasse, perché sono in pochi, fanno le loro valutazioni ciniche costo-beneficio, ma c'è sempre un parlamentare che sia di maggioranza e opposizione che si fa venire lo scrupolo di coscienza e c'è ancora il potere di parlamentare perché siamo in una Repubblica parlamentare, un modo lo trova per bloccare quel processo e molto spesso l'innazzamento delle tasse è stato bloccato grazie a stoici parlamentari che si sono inventati qualcosa di eclatante per portare all'attenzione mediatica dei temi e questa è l'importanza di quello che abbiamo fatto e di quello che abbiamo salvato. Infine voglio dire sul fatto del 138 che se invece la deroga al 138 fosse stata approvata e quindi invece del Parlamento le riforme le facevano questi 40 parlamentari blindati che se uno del Movimento 5 Stelle per assurdo passava al PD o passava a scelta civica noi non lo potevamo sostituire, quindi immagini il pericolo, qui il diavolo è sempre tentatore poteva succedere di tutto in quel comitato invece di farlo fare al Parlamento, se fosse passata oggi Berlusconi magari sarebbe uscito comunque Forza Italia dalla maggioranza ma non avrebbe ricattato il governo oppure non avrebbe avuto questa ripicca verso il governo e quindi entrava nel comitato e si batteva per il suo presidenzialismo perché l'idea scelerata di Berlusconi è sempre il presidenzialismo e non è che l'ha fatto per amore della Costituzione, chiariamoci l'ha fatto perché deve fare un dispetto a letta, perché questi sono abituati a fare così finché c'è accordo e ci sono interessi che collimano si fanno le peggiori porcate e poi si finge di passare all'opposizione quando gli interessi personali non vengono in qualche modo considerati dall'altra parte con cui si è fatto l'accordo quindi tutta questa storia si è basata semplicemente su quel mese che abbiamo guadagnato ricattandoli con quelle 53 ore di ostruzionismo in aula perché dopo quelle 53 ore noi ci preparavamo a fare altre 60 ore in interrotte in commissione affari costituzionali e li facevamo dormire là il sabato, la domenica e il lunedì e fu per questo che poi si raggiunse questo accordo io mi rendo conto, poi magari qualche altra volta parliamo della legge elettorale io sono l'unico del movimento che fa parte della conferenza dei capigruppo dall'inizio perché tu invece sai che i capigruppo ruotano ogni tre mesi quindi io ho visto da Roberta Lombardi a Riccardo Nuti a Villarosa e adesso Dincà e tante volte io mi rendo conto di come il Movimento 5 Stelle si trovi in dei precisi momenti a affrontare delle decisioni storiche e a influenzare delle decisioni storiche poi i giornali e le tv non ce ne danno mai atto perché poi se ne prendono sempre in merito gli altri ma più che prendersene in merito sono disonesti quei giornalisti che glielo attribuiscono il merito a quelle persone ma se veramente vedeste quello che succede lì dentro vi rendereste conto come il Movimento 5 Stelle sia fondamentale e necessario in questo momento storico per influenzare delle decisioni se la legge elettorale è passata alla Camera l'abbiamo totta al Senato che la Fidonchiaro la stava insabbiando da 27 sedute senza scrivere neanche un articolo è passata grazie a noi che siamo usciti dall'aula martedì scorso dopo la sentenza della Corte Costituzionale e abbiamo detto noi in aula non rientriamo più finché non fate una capigruppo e abbiamo tenuti due ore e mezza in capigruppo e gli abbiamo fatto votare all'unanimità perché lo sapevano che se non lo votavano erano sputtanati che dovevamo chiedere a Grasso di ridarci la legge elettorale e portarla alla Camera dove adesso i riflettori sono accesi e dove adesso alla luce della sentenza non si può più insabbiare la questione della legge elettorale bisogna ripristinare il mattarellum secondo noi e andare subito alle elezioni e questo è stato un altro momento storico in cui se non c'era il Movimento 5 Stelle ci avrebbero preso in giro per altri mesi dicendo che non si poteva fare che attendevano il solito politichese di PD e PDL che adesso è Forza Italia a cui in questi anni ci hanno abituato quindi ricordiamoci sempre che magari un giorno ci verrà riconosciuto ma il Movimento 5 Stelle sta incidendo su delle decisioni storiche per questo paese Tiziana e riassume un po' il tenore dei commenti che si sono susseguiti mentre tu parlavi dice come mai quando parlano i nostri si capisce tutto e quando parlano gli altri no infatti ti ringrazio per questa chiarezza e questa esaustività veramente molto molto bello sentirti e sentirvi sempre parlare senti ti faccio un ultimo commento su questo e poi ti vorrei chiedere qualcosa sul finanziamento pubblico ai partiti Luigi perché so che hai una riunione appunto di capigruppo e ti ringrazio per avere sottratto del tempo magari al pranzo eccetera per venire qui con noi è un piacere però ce lo meritavamo proprio perché questa cosa sul 138 purtroppo proprio perché si parla di mediaticità adesso secondo me ci scommetterai l'osso del collo non verrà riproposta come una vittoria di quella battaglia di quest'estate anzi mi ricordo fiumi poi di costituzionalisti persone indignate salviamo il 138 adesso che è stato salvato grazie a questa azione poi sicuramente hanno partecipato anche altre persone ma questa azione prima parlamentare e dopo mediatica sulla salita sul tetto del momento 5 stelle non verrà più rappresentata tra l'altro scusami Matteo quella notte in aula ad alternarci e a fare 20 minuti di intervento dal mezzanotte fino alle 6 di mattina per poi ricominciare quella notte c'era solo il movimento 5 stelle in aula non ho visto le altre opposizioni lo ricordo bene questo ricordiamocelo sempre perché lì fumo definiti semplicemente quelli che non vogliono fare mediazione che non vogliono raggiungere gli accordi anche dalle opposizioni e anche per il tetto fumo definiti dei sovversivi per quella cosa io ringrazio l'unica persona che oggi ci ha riconosciuto questo merito che è il giudice Imposimato che con un tweet ci ha ringraziato io l'ho incontrato sabato a Porti ci abbiamo parlato proprio dell'importanza di questo passaggio e il fatto che lui ci abbia ringraziato credo che sia un'alta riconoscenza da parte di una persona che conosce bene la Costituzione e che ha vissuto i valori della Costituzione anche più di noi in epoche in cui erano ancora più pregnanti e più importanti di quanto siano sentiti oggi i valori della Costituzione però mancano all'appello un po' di persone un po' di quelle persone che quando ci fu questa cosa della deroga al 138 indirono manifestazioni e così via però devono riconoscere che l'abbiamo salvata grazie a quell'azione di tecnica parlamentare che abbiamo portata avanti questo io credo che sia fondamentale ma non lo dico per fanatismo perché veramente io sono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo e a me basta solo questo perché adesso la Costituzione si cambierà ma si cambierà secondo il dettato dell'articolo 138 ciò significa che prima di tutto il referendum sarà obbligatorio perché loro non hanno i due terzi dell'aula quindi i cittadini senza quorum potranno sempre decidere se è una buona riforma o meno e ovviamente qui si agirà già con la convinzione che i cittadini dovranno confermarla cosa che prima per come era stato fatto l'impianto la deroga al 138 i cittadini non l'avrebbero mai potuta confermare con un referendum quindi capisci poi come si lavorerà diversamente qui prima di tutto lavorerà tutto il Parlamento lavoreranno tutti i parlamentari, le commissioni competenti rispetteremo la volontà dei costituenti e potremo entrare anche noi in maniera determinante nel cambiamento e nelle modifiche per quanto riguarda gli strumenti di partecipazione prima era un comitato blindato in cui c'era una maggioranza bulgara e noi eravamo semplicemente una delle opposizioni che in quel comitato avrebbe fatto soltanto un po' di... non sappiamo neanche se partecipavamo a quel comitato ristretto insomma ci stavamo chiedendo addirittura questo quindi questo è veramente una cosa importante mi basta solo questo io sono soddisfatto dell'operato del Movimento 5 Stelle se solo fosse che abbiamo salvato la Costituzione da derive presidenzialiste e semipresidenzialiste Intanto ti ringrazio personalmente di aver citato il giudice Imposimato perché alcuni di noi lo hanno addirittura votato alle candidature per la presidenza della Repubblica gli abbiamo sempre riconosciuto un grandissimo metodo una persona molto competente e uno di quei giudici veramente lottatori molto 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 in gamba grazie che l'hai ricordato Luigi